Bene ragazzi, carichiamo non mai da più scammer, oggi ragazzi siamo qui con la sfida delle sfide Napoli-Juventus, ci risiamo, ma ragazzi oggi vale molto di più, ma molto molto di più per noi che per voi, lo sapete, anche se comunque si devono confermare per la Champions sicuramente loro ma noi vogliamo scalare la nostra classifica diventata un Everest e per farlo bisogna fare il... VITO! Diteci qua sotto i raccommenti chi è stato il primo! A toccare il pallone giallo in campo, chi non vedrà qui sotto, ma come al solito, sei cuoricini questa volta, sempre più azzurri Ci saranno tanti commenti oggi, perché c'è tanta positività Vai anche il Napoli basket! Uno, due, tre VITO! 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 La Mosca! Traore! Politano! Osimè! Buona siena! Buona siena! Buona siena! Buona siena! Buona siena! Napoli! Vogliamo undici leoni! Oggi più che mai! Perché? E' Napoli you! Comincia! Dai 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 Mi preghiamo! Non si è normale! Oh no! Mamma mia! Vicinissimo al golo! Vicinissimo! Era troppo errore! Non era plavici però! Cross di chiesa! Si si era plavici! Si è andata bene! Si è andata bene! A! A! B! Si è andata bene! Facciamo un grosso! Facciamo un grosso! Facciamo un grosso! No! Giù! Abbassa il corpo! Tirare! Capitana! Mannaggia! Capitana! Abbona! Un bel tiro hai! Peccato! Peccato! Giù! Ci può stare! Ci può stare! Ci può stare! Il gol! Gido! Gido! Gidoo! La cazzo! Ma che ammazza! Gidoo! A corte, a corte, a corte! No! A corte! Gidoo! No! No! Live-Palo, Plaovic! Solo di Plaovic! San Gennaro! San Gennaro ci sta salvando, non so come, non so come, scavetto e palo di Bravoli ci voto, approfittiamo . Gino, discovering, for'! Ancora Lui! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Finisce il primo tempo ragazzi, bravo, bravi, bravi, ottimo Napoli. Atteggiamento giusto. Le occasioni migliori è vero, le hanno avute loro, bisogna dire la verità. Graziati, ma ricordate l'andata, dov'è tu fare gli aggraziati? Questa volta no. E adesso continuiamo. André! Deve vedere se ha la fondacalcio a che fare. André, se l'hai, ho visto, se l'hai. È lì, no. Comincia il secondo tempo ragazzi, bisogna fare il secondo per blindare. È sì, buon ragazzo. Oh, no, no! Oh! 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 Sì, si sono mangiati un altro gol. C'è da dire, vai giù, ma stanno un po' più attenti, vai giù. Cambiassi, solo lui nel portiere. Vai giù, è valente, questo è il terzo gol che ci si mangiano davanti alla porta, nitido. Forse tre e quattro. Stiamo attenti, ti prego, vai giù. Vai, veramente. Lo sapevamo, lo sapevamo, lo sapevamo, è così. Lo sentivamo. Lo sentivamo. Purtroppo, nel secondo tempo ci siamo seduti, non abbiamo prodotto niente, però risultato in limico, capito? Stiamo giocando sempre con la Juve, nonostante che stanno mangiando prima, non so che gol. Prima o poi possono segnare. Rolati fatti. Adira! Rigore, 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 va giù. Vaglio, ci ha messo però, voglio il rigore, voglio il rigore. Aspetta, 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 va a vedere, va a vedere. Va, va, aspetta, va, 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 forse va. Va, lo sento, lo sento! Il rigore, il rigore, inutile. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Falso di rigore. Calma, calma, calma. Vittor Rosimena, questo è il crucivia dell'assaggiù. Stavate in cesù, calma! Stavate in cesù calma! C'è il godon! C'è il godon! C'è il godon! C'è il godon! Ancora una volta! C'è il godon! Non l'annullare, ti prego, non l'annullare! Vai, vai! Non ce lo togliere! Raspadoni! L'uomo dello stadio! L'uomo dello stadio! Siamo tutti corti! Raspadoni! 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 Andiamo! Giacomo! 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 Oh, oh, oh! Quirozata! E' l'uomo dello stadio! Oh, oh! Saltate! Saltate! Devi dare due minuti! Mistro! 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 Ma rilassatela! Stiamo! C'è un po' di cinque minuti, Andre! Lasciatemi cantare! Perchè ne sono fiero! Sono napoletano! Napoletano vero! Napoletano vero! La! La! Raspadon! Grazie a tutti i suoi! ragazzi una vittoria lasciatevi mi piace una vittoria importantissima seconda vittoria consecutiva un miracolo da oggi riparte il nostro campionato abbiamo dimostrato che in Napoli c'è per un grande finale di stagione e adesso bisogna guardarci in faccia dobbiamo puntare alla Champions League credeteci ragazzi credeteci